Ok, buon pomeriggio, ben ritrovati. Dunque oggi è un altro momento topico all'interno del corso, perché introduciamo un argomento che è relativamente marginale rispetto al corso, in quanto che andrà a finire solo nella prova di teoria, nella valutazione orale, quindi inciderà per 3-4 punti su 30, insomma, all'interno di questo corso. Ma in realtà, di nuovo, mi tocca dire, ormai sono un po' inflazionato negli aggettivi, però di fatto è un argomento che ha fatto proprio la storia dell'informatica tuttora, impregna di sé tutta la programmazione. È un argomento che affonda negli anni Sessanta addirittura. Ci fu un linguaggio, il primo che introdusse i concetti che stiamo per vedere, si chiamava Simula, in particolare Simula 67, che veniva utilizzato come linguaggio in ambito industriale, per programmare dei simulatori, simulatori industriali. Però è andato avanti, è andato avanti successivamente lo Small Talk, fu un altro linguaggio che incorporò questi concetti, e poi, negli anni Novanta, Bjorn, lui, com'è? Strustrup, introdusse questi concetti, che stiamo per vedere all'interno del Cipras Plus, da dove li incontriamo noi, li siamo per vedere in questo momento. Poi il discorso è anche superato, ovviamente Cipras Plus, è nato anche un linguaggio Java, che ne ha fatto proprio, in qualche maniera, il concetto principale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della cosiddetta programmazione orientata agli oggetti, Object Oriented Programming. Vorrei provare a farvi capire di che cosa si tratta, partendo dal C, che abbiamo conosciuto noi fino adesso, per capire, diciamo, dal basso, di vedere dal basso l'upgrade che ha significato la Object Oriented Programming, rispetto ai paradigmi classici che abbiamo conosciuto in questo corso, in particolare alla programmazione semplicemente cosiddetta imperativa. Dunque, cosa abbiamo qui? Partirei da questo esempio, dove mi sono preparato un piccolo codice, dove ho definito una struttura che ho chiamato razionale, con un numeratore e un denominatore di tipo intero, che starebbe a significare che ho bisogno di rappresentarvi un oggetto, che è un numero razionale, appunto, che è il risultato della divisione di un numeratore per un denominatore. probabilmente avrò intenzione di fare dei calcoli un po' più sofisticati, ovviamente, veramente, questo è un modo per poter fare calcoli più sofisticati, e poi mi sono fatto una funzione che risiedisce un double, che io gli passerò per riferimento una variabile di tipo razionale, che avrà quindi questi due componenti, numeratore e dominatore, tipo intero, e questa funzione mi risiedirà la divisione tra i due. Il concetto che conosciamo bene, glielo passo per riferimento, glielo potrei anche passare per valore, ma voglio che me lo vado a modificare, quindi glielo passo per riferimento. Poi mi sono fatto una funzione, inverti, che gli passo sempre questo numero razionale per riferimento, e mi fa il famoso giochino delle tre carte, che abbiamo visto tante volte in questo corso, e cioè mi va a mettere nel numeratore il denominatore, nel denominatore il numeratore, e quindi produce l'inverso, e quindi l'ho chiamata inverti. E poi mi sono fatto una funzione stampa, una procedura, anzi, come era una procedura anche questa, che semplicemente mi serve per stampare in output il numeratore e il denominatore di questo numero razionale. Penso che sia chiaro quello che ho appena detto. Allora a questo punto userò queste funzioni all'interno di un main, in cui mi vado prima a definire un numero razionale, e poi, cioè allocarlo in memoria, e poi lo vado, chiedo di valorizzarlo all'utente, e lo valorizzo come abbiamo imparato a fare, leggendo dall'input, andando a mettere nel campo numeratore di questo numero, e nel campo denominatore di questo numero, ciò che verrà abbattuto dall'utente. Poi lo passo a questa funzione, procedura, che lo stamperà in output. Poi scrivo, il suo valore è, e lancio in output il risultato della funzione converti a cui gli passo questo oggetto. Mi si è rimorso la lingua adesso. Poi inverto, numeratore e denominatore, e poi stampo l'inverno. Ho fatto una stupidaggine, che però, per capire, per aspettare che finiamo a digerire tutti quanti, me lo compilo, e me lo vado a eseguire. Dammi il numero, 34 diviso 56, 34 cinquantaseiesimo, cinquantaseiesimo, il suo numero è 34 cinquantaseiesimo, il valore, cioè 34 diviso 56, e quello lì, e l'inverso è 56 trentaquattresimi. O con questa tecnica ci possiamo lavorare con numerazioni razionali, veramente. Posso farmi una funzione per sommarli, una funzione per moltiplicarli, lasciandoli sempre come frazione, senza andare mai a calcolare il valore, se no quando mi serva alla fine. Non c'entra niente con l'argomento di oggi, però questo che sto dicendo è un modo per poter fare dei calcoli più sofisticati. Vabbè, c'entra niente quello che ho appena detto, però veniamo al punto. Adesso, riguardando la struttura di questo programma, mi accorgo che la funzione converti, la funzione inverti e la funzione stampa, insomma funzioni che non... e altre che potrei inventare, come quello che ho detto prima, sommare, moltiplicare, eccetera, lavorano solo, lavorano solo con una variabile che gli viene passata di tipo razionale. solo con quello. Le cose potrebbero essere molto più sofisticate, per esempio, il Simula, negli anni Sessanta, era utilizzato per simulare, ad esempio, il funzionamento dentro i porti, le navi che entravano, che uscivano, addirittura negli aeroporti, per simulare il funzionamento di queste grandi strutture. e allora la nave veniva rappresentata come un record, come questo, dove c'era lunghezza, larghezza, stazza, velocità, e tutti i parametri caratteristici, nome, tutti i parametri caratteristici della nave, e poi c'erano delle funzioni che rappresentavano il movimento della nave, fra l'altro, funzioni per fare il movimento non l'abbiamo mai fatta, ma la faremo magari, ci abbia una settimana, ci facciamo un po' di giochini con la grafica. Non sono difficili a fare delle funzioni. E quindi, cioè, il programma, oppure un altro esempio potrebbe essere la grafica, ad esempio, una, supponiamo di lavorare nella geometria, una figura geometrica, quadrato, cerchio, rettangolo, che è caratterizzato da dei parametri, per esempio il quadrato solo da uno, il lato, il rettangolo dai due lati, e poi avremo delle funzioni, potremmo pensare, per allargarlo, restringerlo, posizionarlo in una parte dello schermo, ma, insomma, sempre funzioni che lavorano solo con quella struttura. Questo è il concetto fondamentale. E poi non sta a dire nei giochi, nei videogiochi, uno può fare un personaggino, che è un omino, che lo può girare verso destra, verso sinistra, lo può far correre di qua e di là, ma tutte queste funzioni, che lo fanno girare, destra, sinistra, lo fanno correre di qua e di là, sono funzioni che lavorano sempre con quell'omino, e quell'omino avrà una struttura dati, rappresentata da una struct. Beh, alla fine, questi programmatori pensavano, ma se queste funzioni lavorano solo con quella struttura lì, perché tenerli separati? Si potrebbero mettere assieme. Cioè, hanno cominciato a fare ragionamenti di questo tipo. Io potrei prendere, visto che questa Converti, torniamo all'esempio nostro, lavora solo con razionale, con oggetti di tipo razionale, allora io la potrei prendere e metterla dentro la struttura. Quindi, che sto facendo? Sto facendo una sciocchezza, perché dentro una struttura, che era nata, come concetto, per aggregare dati, che sono concetti passivi, che riguardavano una certa entità, poi da lì c'è nata tutta la teoria dei database, ci vado a mettere dentro la funzione per lavorare su quei dati. La funzione invece è un concetto attivo, non è un concetto passivo. La funzione farà, tant'è che l'ho legata anche col concetto di movimento, no, nei giochi. La funzione andrà a modificare i dati, quindi è un qualche cosa di attivo. Ma io il dato passivo e la funzione che modifica il dato, li metto assieme. Perché? E perché tanto questi staranno sempre assieme. quel dato è per quella funzione e quella funzione è per quel dato. Allora perché sparpagliarli sul file? Perché poi noi, magari questo razionale, lo potremmo utilizzare in un programma di grafica e quindi ci saranno delle funzioni che lavorano con la grafica, che non c'è niente a che vedere con quello lì. Allora ci sarà una grande confusione. Invece, se io metto questa funzione qui, converti, la metto lì dentro e poi a questo punto non c'è neanche bisogno di specificare per quale motivo, che cosa deve prendere, perché è scontato, perché praticamente è una funzione che lavora per quella struttura. Quindi tolgo anche il passaggio del parametro. E poi che cosa farà? Farà questo. Ci ho lasciato qualche cosa, mi sa. A questo punto non gli passo il parametro, posso anche togliere il riferimento alla struttura che gli passo, perché non gliela passo. Perché non gliela passo? È perché è scontato che sta lavorando con la struttura di cui lui parte questa funzione. Gli sta dentro. E poi quindi praticamente questi qui sarebbero sostanzialmente dei dati passivi. che saranno chiamati attributi. Questo qui invece è una funzione e verrà chiamato metodo. Ma mica lo faccio solo per converti, lo faccio per tutte. Tutte quelle che lavorano solo con quello. Allora, è inutile che gli passo razionale perché è scontato che sta lavorando con un oggetto di quel tipo lì. App è un po' lungo, l'accorcio perché se no non entro nella riga. Tolgo un po' di spazi sempre per cercare di essere... Cioè, metto dentro il codice, lo butto dentro. Dentro la struttura. mi seguite? E poi lo faccio pure per quest'altra. scusami. Io c'ho sempre a che fare con dei ragazzi che mi corrono avanti. Che ci devo fare? non ci posso fare niente. Stiamo andando dal basso verso l'alto. Allora, praticamente ho finito di fare quello che volevo fare. Ho messo una cosa stranissima, le funzioni dentro la struttura. Spero di... Beh, a questo punto questa qui diventa A. Oh, se vedete degli errori clamorosi li percepite pure voi ditemeli, eh. Adesso che cosa devo fare qui? Qui io mi vado a definire un oggetto di... una variabile di tipo razionale. Poi me la vado a valorizzare poi scrivo il numero E e chiamo stampa che sarebbe questa passandogli la variabile. E mo' però stampa a parte che non so se compila sta roba. Però non prende non prende variabile per cui non gliela posso passare. Allora non gliela passo però come sono andato a prendere num dentro il razionale? Facendo punto num invece che passagli la variabile come argomento chiamo la funzione stampa che sta dentro la variabile x perché dentro la variabile che fino a oggi fino a ieri era una cosa passiva c'è sta dentro una funzione e questo è quello che avete visto in questo corso quando vedevate cin punto get in pratica era la funzione get applicata alla variabile cin continuo a chiamare la variabile ancora per un po' poi dopo ci liberiamo anche di questo termine poi count il suo valore è converti e gli passo x non gliela posso passare x perché converti non vuole x tolgo tolgo quell'x lì e faccio la stessa cosa gli passo la variabile x e chiedo di far partire la funzione converti che lavori con i dati della variabile x faccio la stessa cosa qui e faccio la stessa rifaccio l'ho già fatta per stampa qui questo punto io la salvo e provo a compilare vediamo se compila ho messo funzioni dentro la struttura e l'ho chiamato queste funzioni così come accedevo al membro al campo così con questo punto penso di accedere alla funzione vediamo se si arrabbia mi è andato bene ovviamente mi è andato bene per questo è il compilatore G++ se fosse stato GCC si sarebbe arrabbiato perché state vedendo il C++ adesso veramente all'opera la vera parte che fa fare il salto di qualità chiamiamolo così poi io non non voglio dire se è un salto verso l'alto verso il basso verso destra verso sinistra comunque è un salto al C++ rispetto al C è proprio quello che stiamo vedendo adesso qui il GCC non avrebbe compilato il G++ si ha compilato ma vediamo cosa fa la mia numero ha fatto esattamente la stessa cosa che cosa abbiamo fatto? abbiamo messo del codice dentro la struct per far partire per far partire quel codice gli passiamo la struct questa qui era una variabile x di tipo razionale di tipo struttura l'abbiamo qui definita poi chiamiamo quella funzione per lavorare con x passandogli x punto e chiamiamo la funzione x dove è stata valorizzata? qui allora sta funzionando e questo è è notevole però ancora è un sistema ibrido perché andiamo a prendere i dati per valorizzare la struttura x nel modo classico ha funzionato si può fare ma se vogliamo proprio essere tagliare i ponti col passato liberiamoci pure di questo facciamoci una funzione la procedura che gli diamo il nome che ci pare assegna perché mi faccio una funzione assegna al momento vuota che non fa niente e vado a mettere il codice di lettura degli attributi dentro questa funzione ovviamente non mi serve più x punto num non mi serve non mi serve più x punto perché num e dem sono attributi di questa struttura e li vede come anche nelle altre funzioni che abbiamo appena visto e qui che faccio ditemi voi a questo punto veramente è cambiato totalmente la struttura del programma vediamo se compila ha compilato allora cerchiamo di capire cosa è successo è successo questo che noi abbiamo preso una struttura ci abbiamo messo dentro delle funzioni e a questo punto quella struttura che conteneva dati passivi contiene dati passivi e dati attivi e funzioni attive allora smettiamo di chiamarla struttura perché dagli anni 60 si è detto che questo qui x non è una variabile di tipo razionale ma è un oggetto dove il concetto di oggetto è dato più funzione che lavora su quel dato quindi la nave diventava un oggetto perché era caratterizzato da certi attributi passivi più certe funzionalità tutto assieme diventava un oggetto e il tipo non si chiamava più tipo ma si chiama classe e per significare questa cosa anche visivamente e per aiutare anche i programmatori a pensare anche in maniera diversa la struct gli hanno dato un altro nome class ecco quello che vedete adesso è un programma oggetto oriented era un programma pre-ente c a parte il caos era un programma c fino a un attimo fa adesso è diventato un programma oop obgetto oriented programming cioè un programma orientato agli oggetti in pratica qui si definisce una classe di oggetti una classe di oggetti questo qui è un oggetto di quella classe x è un oggetto della classe razionale diciamo quanto ha senso andare a programmare a oggetti in c piuttosto che in un altro linguaggio nativamente a oggetti allora la domanda è quanto ha senso programmare a oggetti in c piuttosto che con un altro linguaggio per esempio il java che nasce nativamente oggetti oppure quelli che ho citato vecchi degli anni 80 tipo small talk quanto ha senso è che il c più più io non lo voglio ripeto usannare lungi da me però di fatto te da tutte le possibilità cioè se a un certo punto tu avessi bisogno di riprendere in mano i puntatori e di prendere in mano codice assembli non ve l'ho fatto vedere ma dentro il c tu puoi compilare anche in assembli e quindi vuoi andare in qualche maniera a spingerti sull'efficienza allora forse troveresti il vantaggio aver programmato in c++ invece che in java e non vedo altre motivazioni quindi dal punto di vista didattico però il c++ mi consente di farti vedere però questa è una mia posizione ci sono tanti che invece pensano diversamente ci sono alcuni che ad esempio al primo corso di informatica in altre università d'italia facevano adesso non so se lo fanno ancora java e poi c'è sta per gesto c'è adesso un convegno a milano sul c++ dove uno dei relatori ha dato proprio il titolo al suo intervento che farà come contrastare sostanzialmente la gente che programma in c++ ancora come se fosse io non critico questo però voglio dire almeno ecco siamo arrivati agli oggetti partendo dai bit e dai byte adesso voi magari il resto della vita programmerete e penserete la programmazione ad oggetti da oggi in poi o lo facevate già non lo so però almeno sapete cosa sono gli oggetti da dove vengono e non penserete che sono strutture esoteriche che hanno una non so magari li sai usare ma non sai come sono fatti io credo che oggi voi avete visto come sono fatti gli oggetti e concludo questa che ancora la risposta alla tua dicendo che questa è un po' una provocazione però io ti vorrò far vedere non oggi perché non ci abbiamo il tempo che in realtà programma ad oggetti anche il programmatore in c++ potrebbe programmare ad oggetti e ti posso anche anticipare come mettendo qui dentro dentro una normale struct che cosa dei bravissimo dei puntatori a funzione quindi in pratica tutta questa programmazione orientata agli oggetti un po' come la storia dei vettori un po' come per carità è importante perché ci modella la mente ci aiuta è chiaro che è meglio usare il vettore che il puntatore è ovvio no? la notazione vettoriale è chiaro che è meglio utilizzare quando che stai a programmare un videogioco ma cioè se me lo vai a programmare incida 00 a parte che ci stanno le librerie già fatte le librerie già fatte sono fatte ad oggetti ma certo ma pensa ad oggetti pensa a mettere il pupazzetto che è un oggetto che ha le sue funzioni per farlo muove se programmi un'interfaccia a finestre la finestra sarà un oggetto perché ha i suoi dati larghezza altezza stile della finestra eccetera e poi ha le sue funzioni le sue spostala di su spostala di giù scala la rimpicciolisce è chiaro che viene naturale a pensare ad oggetti però come diceva il vostro collega io potrei in realtà programmare in C l'oggetto mettendo dentro la struttura il puntatore alla funzione quindi questo è solo un modo per mascherare sostanzialmente quello che allora la domanda è se metto dentro il puntatore il corpo lo devo tenere fuori infatti a me questi corpi qua dentro non è che mi stanno molto molto simpatici a questo punto io vorrei vorrei pensare andiamo avanti su questa strada se mi seguite perché cerchiamo di vedere effettivamente qual è il vantaggio anche dal punto di vista estetico io potrei pensare di fare una cosa di questo genere mi prendo questa funzione me la riporto dove stava più o meno qui e quindi il codice lo porto fuori salvo qui lasciarci il prototipo se avete un attimo di pazienza lo faccio anche per le altre questa è la stessa qualcuno che fa una domanda mentre scrivo che così fase finito allora che cosa sto facendo sto portando il codice fuori perché intanto esteticamente si riesce a vedere la struttura della classe in maniera più compatta poi questa cosa che sto facendo mi servirà dopo quando andrò a fare le librerie allora praticamente dentro la classe ci sono rimasti solamente i prototipi delle funzioni membro cioè dei metodi adesso io che cosa dovrei fare cioè che cosa sto facendo mi sto creando le condizioni per poter dire io sono il programmatore di questa classe mi sto creando le condizioni per poter dire a chi la userà la mia classe che sarebbe questa qua più questo mi sto creando le condizioni per poter dire io ti faccio vedere come si usa sta classe e ti spiego qui nei commenti e anche in un manualetto a parte magari cosa fa quella funzione cosa fa la classe e quindi tutte le funzioni e queste funzioni qui vengono dette queste funzioni qui vengono dette interfaccia della classe perché praticamente sarebbero il front end della classe cioè io ho programmato la classe lui la usa io cosa faccio cosa sto per fare queste funzioni qui le metterò su un altro file e non gliele faccio vedere ma non solo perché sono geloso ma perché proprio lui che la deve usare la mia classe se l'ho pensata bene la classe non c'è bisogno di vederle come sono implementate le funzioni c'è solo bisogno di capire come si usano cioè come si chiamano a cosa fanno queste funzioni cioè sono l'interfaccia è come se io ti do un dispositivo un videoregistratore non devi sapere come è fatto devi sapere come si usa cosa fanno quelle manopole l'interfaccia devi avere il manuale utente io faccio programma una classe e poi faccio il manuale utente di quella classe e te lo do in maniera tale che nella tua applicazione tu possa richiamare la mia classe senza necessariamente andare a vedere come è implementata la singola funzionalità che io ti metto a disposizione come è fatta la inverti ma che ti importa l'importante è che hai capito cosa fa e come la devi chiamare in particolare in particolare non devi o devi non o non devi o devi non a seconda di come lo volete vedere manco andare a vedere come sono fatti gli attributi perché perché io gli attributi interni della classe tu devi solo sapere che questo è il numero razionale numeratore e denominatore perché devi andare a sapere se sono interi o non sono interi questo lo so io che l'ho programmata allora sai cosa faccio scrivo qui che questo è il privato gli attributi sono privati e la faccenda funzionerà in maniera tale che tu non li puoi andare a vediamo l'effetto di questa cosa intanto me lo salvo vi faccio vedere l'effetto dimmi dimmi ah io ci devo rimettere allora intanto compiliamo e vedete che adesso non compila cerchiamo di capire gli errori che dà scusate allora cominciare dalla tua osservazione dunque innanzitutto qui dunque ovviamente io qui devo ripassare perché attualmente devo ripassare devo dire che esatto perché questa cosa funzioni io ho bisogno che dica che beh tutto serve no devo dire che la funzione assegna che adesso l'ho tirata fuori dalla classe è un metodo di quella classe e quindi devo specificare il namespace della classe di cui quella funzione è metodo perché lo devo fare perché l'ho tirata fuori dalla dentro la struttura lo faccio per assegna lo faccio per converti e per le altre non potevamo mettere tutto dentro un blocco di codice e dargli e mettere in un space nazionale a quel blocco no sì a tutto il blocco sì ma io non l'ho messo dentro un blocco per cui non lo posso fare sì allora adesso risalvo e abbiamo ancora dei problemi torno indietro allora se se io invece che usare class uso struct praticamente con struct tutti gli attributi che stanno dentro e anche le funzioni sono considerate pubbliche e cioè anche accessibili dall'esterno quindi io potrei anche fare così allora allora è l'ultima volta che vediamo struct se io lascio struct che non si fa è una cosa intermedia ancora in pratica tutto ciò che c'è dentro è considerato accessibile da fuori è quello che adesso vedremo che accade se noi mettiamo lo specificatore d'accesso public e quindi io in pratica posso accedere da fuori la classe al campo num e al campo den dell'oggetto x come abbiamo fatto prima funziona se io la faccio diventare class cioè la struttura faccio diventare una classe e risalvo e vado a compilare si arrabbia perché perché tutti i membri di una classe attributi o metodi sono per default privati alla classe non possono essere acceduti dal di fuori di quella classe quindi in particolare questa riga qui non potrebbe andare la togliamo e non la useremo più per quello ci siamo fatti il metodo assegna che ci consente di poter dare un valore agli attributi della classe utilizzando un metodo della classe stessa ma il metodo stesso assegna è ancora privato diventa pubblico se io scrivo qui public se io scrivo dentro una classe public dal momento in cui lo scrivo fino alla fine della classe cioè quindi fino alla parentesi graffa chiusa tutto ciò che incontra si intende che è accessibile dall'esterno della classe quindi per esempio io definisco un oggetto di quella classe posso andare a chiamare effettivamente una funzione di quella classe di quell'oggetto a quel punto o posso andare a scrivere o leggere un attributo di quell'oggetto di quella classe perché è public pubblico quindi mettendo public ho fatto diventare la classe come la struct ed ecco quello che volevo dire prima io voglio fare una cosa che mi serve per cercare di mettere ordine nella grande applicazione che andrò a fare e cioè voglio far sì che certi dettagli di come è implementata la mia classe non siano visibili all'esterno e quindi ad un certo punto metto lo specificatore di accesso private a significare che da da quel momento in poi finito alla parentesi graffa chiusa tutto quello che incontra è privato invece che pubblico privato vuol dire che non può essere acceduto dall'esterno quindi dal momento in cui io scrivo private questa cin che ho cancellato cin x.num x.dem non può più essere accettata dal compilatore perché gli attributi num e den non possono essere acceduti se non dal di dentro della classe che significa dal di dentro della classe non possono essere acceduti se non da funzioni che sono metodi della classe stessa quindi va bene x.assegna non va bene salviamo compiliamo vedete che si arrabbia cin x.num non va bene perché l'attributo num dell'oggetto x dal main non può essere acceduto però a me non mi serve farlo perché mi sono fatto un metodo della classe razionale che si chiama assegna che devo andare a vedere il codice mi fa proprio quello che volevo fare è chiaro? salvo compilo allora con questo concetto qui si implementa grazie alla programmazione orientata agli oggetti il concetto di information hiding nascondimento dell'informazione qual è il vantaggio di fare questo? c'è un vantaggio di ordine concettuale tu che userai la mia classe non devi andare a vedere come io ho implementato la classe né le funzioni né gli attributi devi come sono implementate le funzioni l'unica cosa che devi sapere è come funziona la parte public la parte public normalmente le funzioni ci possono essere delle funzioni particolari che hanno un uso prettamente interno però normalmente le funzioni stanno nella parte public perché esse nel complesso costituiscono quella che viene denominata l'interfaccia della classe ed è quella che ripeto dovrebbe essere descritta nel manualetto della classe la paginetta perché descrivere cosa fanno le funzioni a questo punto che cosa posso fare per chiudere questo primo ciclo poi dopo facciamo un riepilogo concettuale di tutto quello che abbiamo visto posso cercare supponiamo che io sono andato avanti e ho lavorato e ho questo mio file è diventato molto grande vediamo che c'ha tre componenti concettualmente la prima è questa che è la definizione della classe però non c'è il codice dentro la seconda è questa qui che contiene il codice di tutte le funzioni che fanno parte della classe portate fuori dalla classe e la seconda la terza ed ultima parte è questa qui che è l'applicazione vera e propria adesso i ruoli i ruoli sono questi siamo in due io e lui lui deve fare un'applicazione utilizzando certe classi di una certa libreria potrebbe essere una libreria grafica una libreria per fare videogiochi o quello che volete voi quindi lui deve realizzare la sua applicazione che sarebbe in questo esempio giocata dal codice che va dalla riga 18 alla riga 29 io invece sono quello che la classe l'ha programmata prima che arrivasse lui e gli do a lui la possibilità di poter utilizzare la mia classe quindi a questo punto devo un pochino mettere ordine e mettere le cose sui file giusti mi viene in mente di far così salvo questa la chiamo cliente e ci lascio non voglio ricopiare aspetta per sicurezza ne faccio tre poi scusate perché se no dopo mi tocca riscrivere una la chiamo cliente una la chiamo classe e nel cliente nel file cliente ci lascio solamente l'applicazione vera e propria tolgo la definizione della classe e tolgo anche l'implementazione della classe questa praticamente sarebbe l'applicazione che fa lui utilizzando la mia classe però per poterla utilizzare se la compilasse così non gli compila perché non sa cos'è razionale non sa cos'è assegna non sa niente allora ci facciamo qui un include perché lui dovrà includere la classe come la chiamiamo razionale H perché H questo lo salvo questo è il cliente lo salvo poi vado ad aprire la classe e anche questo qui lo divido in due mi seguite divido anche questo in due uno lo chiamo razionale punto H mi pare che l'avamo chiamato così no? chiamiamolo razionale 1 punto H e che faccio essendo lo header beh questo è il main non mi serve vado a togliere tutti i 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 e ci lascio solamente l'interfaccia della classe proprio i prototipi dell'interfaccia e invece in un altro file ci lascio l'implementazione questo sarà un file cpp perché dovrà essere compilato la compilazione condizionale per l'iostream vorrebbe sono tutti bravi questi studenti che ci sto a fare io? me ne vado? perché che cosa faccio adesso però lui ha anticipato in quanto che io ancora non l'avevo detto se vado a compilare adesso questa parte qui cosa succede? che non sa cosa è razionale e quindi io devo fare un include ok ci siamo quasi vediamo allora adesso ci abbiamo tre file cerchiamo di riguardarli tutti quanti allora razionale1.h e poi che cosa ho? razionale cliente e razionale classe ho tre file eccoli qua riguardiamoli tutti e tre c'ho quella il cliente che definisce un oggetto di una certa classe e lo va a utilizzare per poterlo fare deve aver incluso l'header file della classe perché altrimenti il compilatore non glielo passa poi andiamo a vedere l'header file della classe eccolo qui c'è solamente l'interfaccia ma vedete che il codice non c'è non c'è codice però questo consentirà al compilatore di compilare il codice sta nella classe sta in quest'altro file cpp che anche lui definisce c'è degli identificatori che il compilatore non conosce dentro quel file includiamo lo stesso header file che a questo punto lo includiamo due volte se andiamo a compiare tutto assieme potremmo avere problemi ci abbiamo messo l'header guards come abbiamo visto ieri e questa sarebbe la mega applicazione qui in teoria la classe potrebbe essere fatta da decine di migliaia di righe di codice la vostra applicazione migliaia di righe di codice l'header file poca roba la più grossa sarà questa che stiamo vedendo adesso questo qui sarà grandissimo tipicamente però ecco i ruoli adesso dobbiamo compilare tutto quanto quindi innanzitutto dobbiamo salvare dove stanno questi non mi ricordo stanno in c++ classi allora io ci vado ok adesso io che vado a fare ho varie possibilità posso compilare tutto tutto assieme faccio faccio un file si vede si vede poco faccio un file prova e compilo tutto assieme razionale cliente punto cpp non sta scrivendo scusate punto spazio razionale classe ha compilato dovrebbe aver prodotto un file prova sì alle 15 e 29 eccolo qui lo possiamo far partire ha funzionato la nostra applicazione una cosa però eccolo qui il vostro codice e se voi il vostro codice non lo volevate far vedere perché volete utilizzare quell'altro modello di business quello basato su licenza facevate così g più più meno c solo compilare senza linkare e gli fate compilare la classe ha compilato tutto bene perché ci abbiamo incluso razionale punto h quindi non ha avuto problemi però abbiamo prodotto il codice oggetto eccolo lì prodotto alle 15 e 30 razionale classe punto o volete vederlo c'è niente c'è no c'è un sacco di roba ma non è leggibile quello che c'è dentro ci credete no il codice oggetto non è leggibile sono è praticamente è eseguibile codice eseguibile quasi a questo punto voi che cosa fate al cliente gli date solamente questo ormai non serve più gli date questo questo l'ha fatto lui il cliente gli avete dato questo gli avete dato questo è il codice oggetto che abbiamo appena prodotto gli date così che proprio lui non può vedere come è implementata la classe primo perché non c'è qui l'abbiamo nascosto abbiamo messo nell'altro file e nell'altro file diamo solo un codice oggetto non può sapere minimamente può vedere come sono implementati gli attributi l'unica cosa può vedere ci sarebbe anche modo per nascondere quelle ma inutile tanto l'importante era nascondere queste come si fa a compilare da dovete fare la stessa cosa anche per la l'applicazione come si chiamava cliente ora ci avete tutte e due li ho e abbiamo ce ne sono altre però eccoli qui alle 15 e 30 e 15 e 32 razionale punto class razionale classe punto razionale cliente punto a questo punto fate G più più meno O altra prova e tocca scrivere tutte e due ora facciamo così non so se qui funziona sto link con G più più senza niente si compiere e si linka col menu O si crea un altro un file che ha un nome un eseguire che ha un certo nome io gli ho dato altra prova ok questo era quello che volevo far vedere oggi adesso ricapitoliamo tutto quello che abbiamo visto e poi ci lasciamo questa è la storia dell'evoluzione dell'Object Oriented Programming e come è andata a finire nel C e come dal C c'è stata una fusione che ha portato al C++ e un altro branch che ha portato al Java l'idea l'abbiamo chiarita incapsulare nella medesima struttura sia gli attributi che il codice quello che viene fuori è una classe che ha queste due componenti dentro e abbiamo visto come si definisce class in C++ class gli date il nome come se fosse una struttura con dichiarazione dei dati e dichiarazione delle funzioni poi avete visto nell'esempio che ho fatto i due specificatori di accesso più usati public e private con i significati ho cercato di illustrare i significati c'è un terzo importante protected che vedremo la settimana prossima perché ha a che fare la funzionalità di questo terzo specificatore di accesso con l'ereditarietà di cui parliamo la settimana prossima il concetto di information hiding cioè di nascondimento spero che sia stato chiaro dall'esempio quindi alcune cose sono rosse in senso sono private e altre sono verdi quelle verdi vanno a costituire l'interfaccia pubblica della classe quella che l'utente della classe dovrà conoscere perché se no come fa a utilizzarla tutto il resto sarà privato se non ci mettete public si intende che è tutto privato come abbiamo visto nell'esempio c'è stato un passaggio che l'esempio ha illustrato anche questo concetto cosa sono gli oggetti a questo punto prima avevamo tipo della variabile variabile adesso abbiamo classe oggetto l'oggetto è come se fosse una variabile di un tipo però mentre la variabile aveva solo dati passivi adesso invece c'è anche i metodi per lavorare su quei dati passivi cosa sono i dati membro abbiamo detto le funzioni membro si chiamano metodi come vengono chiamate con il punto lo stesso strumento che si usa per accedere al campo della struttura si usa accedere per accedere all'attributo della classe nonché alla funzione della classe ecco in line o offline io le ho tirate fuori perché poi tirandole fuori siamo andati verso il concetto di information hiding e il concetto anche di come si struttura in file l'applicazione e la classe però per scopi di efficienza se la funzione è piccola come per esempio quelle che veramente stavamo usando noi poco fa nell'esempio e se non c'hai proprio bisogno di stare a fare tanti nascondimenti la puoi lasciare tranquillamente come nel secondo esempio che abbiamo fatto dentro la struttura che il funzionamento è leggermente più efficiente in line è quando la funzione è definita dentro la classe stessa per esempio questo converti qui nell'esempio è in line è anche razionale in line va bene l'ultimo concetto che non ho evidenziato poco fa e che quindi lo richiamo adesso è il concetto di costruttore e di che si tratta si tratta di questo quando se noi mettiamo come nell'esempio che questo è il stesso esempio che ho fatto poco fa se noi mettiamo gli attributi di una classe come privati quando vado a definire un oggetto di quella classe per esempio prima razionale x x su quegli c'ha pure quei due attributi numeratore e denominatore però sono casuali i valori in quel momento in quanto che vengono allocati nella RAM ma non vengono inizializzati d'altronde non posso inizializzarli dal main perché non sono accessibili quei campi al main perché sono privati quindi i primi programmatori nella programmazione ad oggetti creavano degli oggetti che avevano degli attributi casuali all'inizio poi magari andavano a utilizzare la funzione per esempio che abbiamo fatto noi accedi e dopo magari li valorizzavano però c'era un momento nel main in cui quelli non avevano un valore cosa che portava ad errori siccome questo era errore basta non c'aveva un uso lasciarli senza valore questi attributi praticamente è nato subito il concetto di associare ad una classe subito non ci sono classi senza questo concetto il costruttore viene detto così che cos'è? il costruttore di una classe è un particolare metodo cioè una particolare funzione che sta dentro la classe che sta nell'interfaccia pubblica che ha lo stesso nome della classe lo riconoscete questo metodo perché ha lo stesso nome proprio della classe eccolo qui razionale quello che ho evidenziato qui in rosso nella slide è il costruttore della classe razionale che cosa qual è il ruolo di questo di questo particolare metodo è quello di inizializzare i valori degli attributi dell'oggetto praticamente quando che voi scrivete razionale x nel main viene allocato l'oggetto x più i suoi attributi vengono immediatamente valorizzati come sta scritto come definito dal costruttore da questo metodo che lo riconoscete da due cose primo perché ha lo stesso nome della classe secondo perché non restituisce niente né inter ne flotta manco void non restituisce neanche void si riconosce subito il costruttore e ci sta sempre ripeto serve solo per inizializzare i valori degli attributi poi dopo li potete cambiare però l'importante è che vengono inizializzati a un valore default 0 0 no 0 0 per esempio questo razionale se mettiamo appunto il denominatore a 0 chiaramente ci mettiamo a rischio perché magari lo andiamo a utilizzare e già all'inizio c'è un valore casuale 0 allora un modo per evitare il problema è inizializzarlo e dargli il valore 1 cosicché qualunque sarà il valore del numeratore in pratica stiamo definendo un razionale che ha proprio il valore del numeratore visto che il numeratore è 1 questo è il concetto di costruttore oltre al concetto poi ci sono dei costruttori che possono avere dei parametri quello che abbiamo visto poco fa è un costruttore senza parametri questo è un costruttore con parametri ce li potete mettere più di uno di costruttori dentro una classe in questo esempio si vede che c'è un costruttore che per default inizializza i membri dando al num 0 e al denominatore 1 quest'altro che ha due parametri a che cosa serve? è intuibile dall'esempio serve perché io voglio definire un oggetto e subito dargli un certo valore per i parametri per i suoi attributi se per esempio nel main io scrivo razionale 1 allora viene definito un numero razionale che c'ha 1 nel numeratore che lo scusa c'ha 0 e 1 quindi no questo è 0 sarebbe razionale 0 dovrei cambiare il nome se invece io scrivo nel main razionale rapporto e gli passo 5 e 3 5 va a finire dentro num e 3 va a finire dentro den in pratica io sto inizializzando l'oggetto a particolari valori degli attributi spero che sia chiaro l'esempio li posso usare due li posso usare quanti ne voglio questa è una definizione compatta che mi consente di poter in un solo costruttore utilizzarli entrambi quelli che abbiamo appena visto va bene allora io oggi questo è quello che volevo dire che cosa faremo la settimana prossima la settimana prossima vedremo degli utilizzi sofisticati del concetto di oggetto di classi di oggetti e introdurremo in particolare nel corso della settimana prossima i concetti di ereditarietà e polimorfismo i concetti più importanti che ha portato con sé l'obgetto oriental programming sono l'information hiding di cui abbiamo già parlato e gli altri due cioè l'ereditarietà e il polimorfismo ne parliamo la settimana prossima quindi oggi chiudiamo qui la lezione e ci vediamo lunedì